Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Sembrava una storia d'amore appassionata, ma a pochi mesi dalla fine del grande fratello, i due ex concorrenti hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. La coppia, formatasi all'interno della celebre casa di Cinecittà durante l'ultima edizione del reality, aveva già attraversato una prima separazione lo scorso giugno, i motivi della rottura non sono stati chiariti, ma qualche giorno fa, una serie di commenti sui social aveva già fatto nascere sospetti tra i fan della ormai ex coppia. Quando capisci che è davvero finita. Quando l'altra persona preferisce uscire, viaggiare e divertirsi da sola. È lì che capisci che non c'è più spazio per te, aveva scritto Greta Rossetti, anticipando il suo annuncio ufficiale con un lungo messaggio. Ho imparato che le cose possono cambiare velocemente, e a volte non si può fare altro che accettarle. L'ex concorrente del grande fratello, nota anche per la sua partecipazione a Temptation Island, ha ammesso di aver sperato che le cose prendessero una piega diversa. Non vi nego che ho pubblicato questo comunicato solo ora, perché fino all'ultimo, fino ad ora forse, speravo che le cose non finissero così tra me e Sergio. Per rispetto di quella che è stata questa relazione, preferisco mantenere privati i motivi. Non credete a tutto quello che leggete. Ringrazio chi ci ha sostenuto e creduto in noi. Vi assicuro che quel legame che avete visto era reale. Rottura, e voi, cosa pensate sarà davvero finita tra Greta e Sergio? Lasciate la vostra idea qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.